E' arrivato in Italia Mustafa Georg, rumeno di 25 anni, tratto in arresto il 29 aprile scorso per violenza sessuale e danni di 10 giovani donne di Ragusa. Il suo aereo, proveniente da Bucharest, è giunto ieri sera all'aeroporto di Roma a Fiumicino. Le indagini, esperite dalla sezione specializzata della squadra mobile Iblea, hanno consentito di individuare il 25enne quale autore di una serie impressionante di violenze sessuali che il manioco ciclicamente portava a termine, bloccando le donne nelle stradine del centro storico di Ragusa e palpeggiandolo nelle parti intime. I riscontri ottenuti dalla squadra mobile sono stati posti a fondamento della misura cautelare concessa dal GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Monica Monego. Essendo latitante per la cattura del 25enne era stato predisposto il mandato di arresto europeo e a seguito della localizzazione effettuata grazie all'attività tecnica svolta dalla squadra mobile di Ragusa la polizia rumena con il coordinamento dell'Interpol. Il giovane è stato individuato e arrestato presso la sua abitazione di Calarasi vicino a Bucharest. L'estradato dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea.